Su Piazza Duomo ci sono delle tempistiche certe. Il vice sindaco Raffaele Daniele, dopo le lamentali di alcuni commercianti, ha voluto diffondere una nota per rispondere appunto e fare chiarezza sullo stato di avanzamento delle opere che interessano strade e piazze del centro storico. Piazza Duomo, primo step delle lamentali di diversi commercianti. Il vice sindaco spiega che l'impresa che sta eseguendo i lavori, la Pensi Costruzioni, ha richiesto una proroga di 60 giorni a partire dal 19 aprile. Questo vuol dire che per la seconda metà di giugno verrà riconsegnata ai cittadini. Se c'è non avverrà, il vice sindaco ha spiegato che saranno applicate delle penali giornaliere. Per onor del vero, in piazza c'è anche qualche commerciante che ha difeso l'amministrazione comunale, come riportato da Rete Otto nel servizio di qualche giorno fa. Il commerciante intervistato ha spiegato che il comune non ha responsabilità sui ritardi. In realtà, come fu per Palazzo Margherita, vicenda che Daniele seguì lui stesso da vicino, più volte il comune avrebbe sollecitato l'impresa per avere maggiore velocità. Entro il mese di giugno poi saranno terminati anche i lavori di piazza Chiarino e anche quelli della pavimentazione, nel tratto che, partendo dalla parte alta di piazza Duomo, interessa Corso Federico II sino alla villa. A metà luglio sarà completata piazza del teatro, mentre su Via Verdi, d'accordo con i commercianti, il cantiere partirà a settembre dopo il festival del jazz. Daniele ha detto pure che trattandosi di opere finanziate con fondi del PNRR, vanno rispettate le scadenze e per questo motivo si sono avviati i cantieri in maniera simultanea. Il vice sindaco ha pure detto che loro comprendono i disagi per residenti e commercianti e se ne scusano, ma l'obiettivo di riqualificazione e vivibilità che il comune sta perseguendo sarà beneficio di tutta la collettività.